Ben trovati in studio, seconda parte del nostro telegiornale. Adesso ci occupiamo di un curioso episodio di cronaca che si è verificato a Modica. Due anziani, ultra settantenni, sono stati protagonisti di una animata rissa in Piazza Libertà. Le persone che assistevano in credule hanno provato a separarli. Uno dei due è finito in ospedale. Se le sono date di santa ragione, protagonisti di una rissa sono due arzilli vecchietti di Modica. Forse saranno state antiche ruggini che si trascinavano da anni e che sono esplose lunedì sera in Piazza Libertà nel quartiere Sacro Cuore. Due pensionati, ultra settantenni, si sono incontrati e non si sa se già con l'intenzione di chiarire gli antichi rancori. Alcune persone che si trovavano in zona improvvisamente hanno dito le urla e poi hanno notato i due anziani che se le davano di santa ragione. Alcuni passanti sono intervenuti per cercare di dividerli. Il primo dei due, un pregiudicato locale, ha avuto la peggio perché è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale maggiore e sanguinante. La controparte, ex commerciante, ha lamentato qualche contusione per un paio di violenti pugni ricevuti, ma ha rifiutato di farsi refertare dai sanitari. Sono stati attimi di tensione in Piazza Libertà, anche perché i due andavano giù pesantemente. Pare che in passato entrambi avessero avuto delle contrapposizioni in un episodio analogo e addirittura uno era stato anche arrestato. La Polizia Provinciale ha sequestrato 70 trappole per conigli per prevenire il fenomeno del bracconaggio. Sequestrate 70 trappole per conigli, il nucleo di vigilanza venatore della Polizia Provinciale di Ragusa, nonostante la stagione venatoria si è chiusa da tempo, ha proseguito nella sua azione di controllo. Durante i servizi predisposti dal comandante della Polizia Provinciale Raffaele Falconieri nelle zone del Lipparino incontrata Fossa Rotonda, in territorio del comune di Chiaramonte e Gulfi, sono state rinvenute numerose trappole per la cattura di selvaggina. Le trappole, abilmente mimetizzate tra la volta vegetazione, erano posizionate ai margini delle tane o nei percorsi obbligati del coniglio selvatico, ed erano costituite da lacci in filo di ferro dello stesso spessore con un sistema di cappio a nodo scorsoio, ancorati ai rami di gespuglio e altri elementi fissi. Già alcuni conigli erano stati catturati, così si è deciso di disattivare e sequestrare le trappole metalliche, più di 70, mentre si sta abbattendo tutta la zona alla ricerca non facile di altre trappole tra la fitta vegetazione. La polizia provinciale ha svolto altresì azioni di controllo relativamente alla pesca nelle acque interne Iblee e soprattutto presso l'invaso della diga di Santa Rosalia. A seguito di questi controlli sono stati accertati 10 violazioni amministrative pesca senza licenza o con attrezzi in numero superiore a quello consentito o con attrezzi vetati, con sanzioni pecuniari in alcuni casi fino a 500 euro. In un caso è stato addirittura operato anche il sequestro di una rete che già aveva catturato alcune carpe ed alcune canne da pesca. Cambiamo argomento. Il comune di Ragusa ha aderito al patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea e per Palazzo dell'Aquila si aprono una serie di impegni. Impegno contro le emissioni di anidride carbonica. Il comune di Ragusa aderisce al patto dei sindaci promosso dall'Unione europea che mira a raggiungere una riduzione di CO2 del 20% entro il 2020. In particolare il piano di azione 2020-2020 dell'Unione europea per l'efficienza energetica include appunto la creazione di un patto dei sindaci su base volontaria con il quale le amministrazioni locali condividono la responsabilità della lotta a riscaldamento globale. Palazzo dell'Aquila ha così deciso di aderire con deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 del 4 aprile scorso. Condividere l'impegno dell'UE nel territorio comunale significa redigere ed attuare un piano di azione per l'energia sostenibile da proporre all'approvazione dell'Unione entro un anno dalla formale adesione al patto dei sindaci. Il piano rappresenta il documento programmatico che elenca la pianificazione e le misure energetiche da attuare nel territorio comunale e consente una valutazione dello stato di fatto attraverso la creazione di un inventario di base delle emissioni che serva ad individuare i settori su cui focalizzare l'attenzione. L'inclusione del Comune di Ragusa nel patto dei sindaci, ha commentato il commissario straordinario Rizza, permetterà l'avvio di interventi ed investimenti mediante l'accesso privilegiato a programmi e fonti di finanziamento comunitario orientate all'attuazione del piano. E adesso una notizia di servizio. Il settore energia ed ambiente di Ragusa rende noto che sono da qualche giorno in corso i lavori di sostituzione della condotta fognaria relativamente al tratto compreso tra via Palermo e Villa Margherita. Per eseguire l'intervento si è dovuto provvedere alla chiusura al transito veicolare di via Palermo fino a giorno 8 maggio. Altro riconoscimento di prestigio per il liceo Carducci di Comiso, questa volta un alunno della sezione classica, Giuseppe Cacciatore, si è distinto nel certamene di lingua e cultura classica che si è svolto a Catania. Si arricchisce le medaglieri dell'istituto secondario Carducci di Comiso. L'alunno Giuseppe Cacciatore della classe terza B della sezione classica ha ottenuto un brillante quarto posto nel secondo certamene di lingua e cultura classica Concetto Marchesi, organizzato dall'igio classico Cutelli di Catania. L'alunno si è distinto per la linearità, l'organicità e la puntualità della traduzione del brano proposto e per la pertinenza e la ricchezza del commento al testo. Lo studente comisano ha ottenuto uno speciale applauso dalla commissione, presieduta dal professore Giovanni Salanitro, professore ordinario di lingua e letteratura latina, presso l'Università degli Studi di Catania. Il giovane studente del Carducci potrà adesso partecipare alle Olimpiadi nazionali di lingue e civiltà classiche e sarà incluso nell'albo nazionale delle eccellenze. Si tratta di un riconoscimento di grande valore, ha detto la professoressa Teresa Noto, responsabile del Dipartimento di Lettere, che premia l'impegno profuso dal nostro alunno in questi anni del liceo. E' tutto per questa edizione, in chiusura vi ricordo che oggi alle 15.20, 17.40 e 20.50 andrà in onda uno speciale dedicato alla 29esima edizione di Agrem che si è svolta a vittoria presso la cittadella fieristica delle Maya. Continuate a seguirci anche sul nostro sito all'indirizzo free tv online1.it e sulla nostra pagina Facebook Free TV Comiso. Grazie per essere stati con noi, alla prossima. Grazie per essere stati con noi.